In sua posizione nel frattempo i 5 Stelle replicano al sindaco di Firenze Renzi che ieri nell'intervista al Tg1 li aveva sfidati così scendano dai tetti e facciano cose concrete. Proprio Renzi che invece di fare il sindaco se ne va in giro a farsi campagna elettorale e parla di costi della politica. Noi siamo l'unico partito che ha restituito 42 milioni di euro e il suo partito se ne è pappato i 49 milioni. Quindi i fatti sono chiari e le chiacchiere stanno a zero.